ma ma non doveva fare tagli smantellare spaventare i bambini nei parchi di notte non doveva fare questo 10 milioni all'autaro dov'è il problema te l'ho detto non faranno abbassare di valore un loro asset che hanno pignorato perché ragazzi la verità è questa ho tri appignorato l'intera zanghe che è stato sommerso dai debiti e te lo ha detto anche Moratti tra l'altro una parentesi per il mio presidente se permettete non costa nulla lo voglio leggere anche il giornale va bene oggi il giornale lo leggo anch'io senza problemi allora quello che vi volevo dire sono contento eh del rinnovo di l'autaro ma da un lato certe cose non mi sono piaciute Moratti mai fatto buchi di bilancio ho sempre ripianato punto quindi a tutte quelle favole che Moratti aveva fatto i buchi destra e sinistra dichiarazione del presidente contro Repubblica l'ex presidente ha voluto rispondere con una lettera al quotidiano della Repubblica mai fatto buchi di bilancio ho sempre ripianato prove alla mano dice il mio presidente ma è anche il vostro lo so che anche il vostro diciamo che certe cose di Lautaro Martinez a me non sono piaciute quelle che ho ascoltato e ho visto eh in televisione quelle che ho letto io non lo sapevo se rimaneva se andava via l'ho detto io non lo so certi atteggiamenti non mi piacciono ma il capitano dell'Inter stava andando troppo per le lunghe manca solo l'ufficialità a Sport Mediaset hanno detto che le parti sono vicine io attendo l'ufficialità e eh a livello a livello comunicativo questo è un segnale molto molto forte attenzioni non sottovalutiamo questo segnale di Optri e attenzione la squadra deve rimanere forte Zang avrebbe avuto problemi a dare dieci milioni a Lautaro non Optri e questo è il discorso anche se Optri sta gestendo l'asset che ha ignorato a Zang questo è un segnale fortissimo che la squadra deve rimanere forte e competitiva e Lautaro diventa il giocatore più pagato della Serie A insieme a Blauvic attenzione attenzione poi lui spiegherà eh dovrà smentire certe voci del procuratore volevano dodici volevano tredici secondo me ha fatto la miglior scelta ritornando al video fatto che ho fatto stamattina basta con questo teatrino ha fatto la miglior scelta per tranciare tutte le voci Lautaro entra a gamba tesa a quanto pare dice si è esposto lui basta firmo all'ultima offerta che avete fatto quindi Optri non smantella nulla Optri è di passaggio Optri non ha nessun interesse di aumentare i valori dell'Inter per poi riconoscere eh la differenza a Zang parlo soprattutto per le minchiate che dice qualcuno Optri ha interesse di mantenere l'Inter forte a non svalutare il proprio asset e accederla il prima possibile quando non lo so ma sicuramente Optri è di passaggio quella dei 18 mesi è una cosa che non ha senso che ho già spiegato e poi la differenza dovrebbero dare a Zang più valore più valore a Zang no in riferimento a quello dite voi ma secondo voi i sauditi potrebbero fare un altro investimento e dare 200 milioni faccio un esempio ad Optri sotto forma di un altro investimento potrebbero investire tutte le cose che Optri quindi cosa state ragionando ma Optri ma non doveva smantellare tutto e anche qui avete preso un'altra legnata perché sono due settimane che terrorizzate i tifosi dell'Inter su Optri che sono brutti sono bassi spaventano i bambini nei parchi di notte venderanno tutti questi hanno dato 10 milioni all'autario e non è stato il cinese sono state quelli di Optri 10 pampani 10 pampani in serie A per una per una società che ha una situazione economica disastrata 10 pampani coglilo questo segnale dammi letta coglilo coglilo 10 pampani ciao Inter Grazie 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 Grazie